Ciao, sono Alice! Ecco finalmente l'anteprima del nuovo volantino Eurospin! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Ehi, perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra! Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione! Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Grazie per la visione! Su trovavolantini.it, le offerte della tua città, a portata di un click! Che ne pensi dei prodotti Lidl? Dicci la tua nei commenti, dai! Lo so che vuoi vedere l'anteprima Eurospin! Non manca tanto, dai! E tu, in quale Lidl vai? Scrivilo nei commenti! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.